Sicuramente esistono gli equivalenti anche per i farmaci di automedicazione, pensate al paracetamolo, non facciamo i nomi commerciali ma li conoscono anche i bambini, nella formulazione da 500 mg si può avere in farmacia anche senza ricetta, esistono ovviamente una serie di paracetamolo generici 500 mg sostanzialmente identico al farmaco da cui origine e così farmaci per piccola patologia, quindi da cosiddetti farmaci senza obbligo di ricetta medica, anche per questi troviamo ovviamente un'offerta che ancora una volta generano una riduzione di spesa per i pazienti, essendo farmaci che pagano integralmente spesso vediamo differenze di costo anche importanti, farmaci che potevano costare 12, 13, 14 euro a confezione, stesso numero di compresse, diciamo di unità posologica anche alla metà, 5-6 euro, quindi anche per questi farmaci, ripeto integralmente pagati dall'utente, si ha un importante aiuto nella riduzione di spesa. E poi ci sono quelli per le patologie complesse. E poi ovviamente perché proprio all'inizio della chiacchierata spiegavamo che il meccanismo di copertura brevettuale è di ogni farmaco che arriva sul mercato, quindi non è che ci siano dei brevetti che distinguono il farmaco importante, fra virgolette, o per la malattia importante rispetto a... e quindi essendo quello il meccanismo, poi quando arriva la scadenza del periodo di copertura brevettuale vanno fuori il brevetto e quindi con la possibilità di essere copiati anche farmaci importanti. Per cui noi abbiamo tutta una serie di farmaci antitumorali che chiaramente sono, per cui esistono, per cui esistono farmaci equivalenti che sono ovviamente di competenza di impiego ospedaliero. Per esempio da qualche anno a questa parte sono cominciate ad arrivare anche farmaci equivalenti nel settore dei farmaci del virus HIV, quindi farmaci antiretrovirali. E quindi, come dire, la falce del brevetto che scade e che gala e diciamo fa giustizia di farmaci di ogni tipo e quindi diciamo a tutti i livelli, poi dopo se ci sono dei meccanismi virtuosi di risparmio di spesa a tutti i livelli è possibile realizzarli.